Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento del sabato mattina su Stapp Radio con la trasmissione Mago del Bet. Oggi si gioca la sedicesima giornata di campionato di Serie A, la trentacinquesima per l'esattezza. Ieri intanto si è giocato l'anticipo Juventus-Torino conclusa con il suo stato di 1-1. Ma prima di vedere in dettaglio le partite di oggi, leggiamo la classifica giornata che vi dà al comando sempre la Juve 89 punti, campione d'Italia. Segue il Napoli a 70 punti, Inter 62, Atalanta 59, Roma 58, Torino 57, Milan 56, Lazio 55. Queste quattro formazioni lotteranno ancora per post in Champions ed Europa League. Sampdoria 48 punti, Sassuolo 41, Cagliere e Fiorentina 40, Spal 39, Bologna e Parma 37, Geno 35, Udinese 33. Entriamo in zona retrocessione con Empoli 29 punti, Frosinone 23, Chievo 15, Fannarino di Coda, ormai retrocesso in Serie B. Oggi si giocano due match, alle ore 18 Chievo-Spal e alle ore 20.30 Udinese-Inter. Domani alle ore 12.30 scenderanno in campo Empoli-Fiorentina e alle ore 15 scenderà in campo Lazio-Atalanta, Parma-Sampdoria e Sassuolo-Frosinone. Alle ore 18 Genoa-Roma e alle ore 20.30 Napoli-Cagliari. Chiuderà le ore 20.30 il posticipo Milan-Bologna. Il mago del bet per gli ascoltatori della radio ha preparato una giocata di Serie C. La vado subito ad elencare. Sicula-Leonzio-Casertana X Quota 2.85, Pisceglie-Cavese X Quota 2.90, Rimini-Renate X Quota 2.25, Gubbio-Virtus-Verona X Quota 2.70, Gozzana-Arzaghena X Quota 3.35, Siena-Piacenza 2 Quota 2.05, Entella-Cararese O per 2.5, Quota 1.90, Alessandria-Albissola 1, Quota 1.80. Queste giocate insieme ad altre giocate le potete anche trovare sulle mie pagine social, Facebook, Instagram e Telegram. Vi raccomando sempre di... io posto sempre anche giornalmente altre giocate dove potete copiare e andarle a giocare nella vostra agenzia di fiducia. Bene, anche per oggi il mio tempo a disposizione è finito. Ringrazio il direttore Stefano Tini per la messa in onda del programma e vi aspetto numerosi come sempre sabato prossimo, stesso orario, stessa radio. Ciao ciao!